Il secondo anno che partecipo, che vengo invitato alla festa della lettura, del libro e della lettura, è una bellissima esperienza, sì, incontrare i ragazzi soprattutto, quindi stare con loro, partecipare con loro a questa festa, questa è la cosa più interessante, proprio tantissimi ragazzi. E poi gli autori, l'incontro, l'organizzazione, il progetto inizia nel 2014, fine 2014, un po' era un'idea che avevo, un'idea un po' quella mia, di voler girare portando i libri un po' in giro, quindi volare lotto, lasciare le librerie stabili, insomma, diventare un libraio itinerante. È un libraio che forse nel mio caso stanco un po' di stare anche nelle librerie, dentro una libreria. Poi un po' la libertà, la ricerca di libertà, di viaggiare, di girare, portare libri dove un po' magari non ci sono, quindi incontrare, salire, arrivare, scendere. Poi il libraio è colui che un po' illustra, promuove, vende e soprattutto nel mio caso anche educa, un po' tra virgolette educazione alla lettura. È il divertimento, proprio perché mi diverto molto proprio a stare attorno, avere tutti questi libri, a farli vedere, leggerli, cantarli, venderli, quindi insomma promuoverli, illustrarli. È una passione. Libertina, libreria itinerante per ragazzi. Ciao a tutti, ciao a tutti i ragazzi, bambini e a presto, vi aspetto.